Ciao ragazzi, bentornati. Post partita di Venezia Parma, finito purtroppo 3 a 2 per il Venezia, quindi abbiamo fatto 0,0 punti. Devo dirvi che come avevo già accennato me lo aspettavo, me lo aspettavo perché, come si può dire, prima di tutto perché è una striscia positiva, prima o poi finisce, ma anche perché diciamo che con la Cremonese c'è andato tutto bene, perché la squadra non è che abbia fatto una gran partita, però l'abbiamo portata a casa. Ma non sembra che facendo tre occasioni si fanno due gol, quindi questa volta la partita è un esempio lampante di questa cosa. C'è da dire però in più che stavolta il Parma non ha giocato, proprio ha giocato anche peggio, ma molto peggio. Il Parma è sembrato molto più slegato, impreciso, molto più del solito. Io dico che la mancanza di Esteves si sente in una maniera incredibile e Hernani è lento, è lento. Ogni tanto uno scattino lo fa, qualcosa di buono sì, i piedi non sono neanche male, però diciamo questa è la realtà, che senza Esteves è un altro Parma. Poi dopo cosa abbiamo? Abbiamo visto un Parma che a differenza di altre partite è stato poco concreto in avanti, un Parma che è stato lento, lento a ripartire e quindi diciamo che, chiaro che se il nostro Benec, San Benec da Parma metteva dentro quella palla all'inizio, dopo dieci minuti finita sul palo, io ti dico Benec, allora hai fatto bene fino adesso, però non ti si può dire niente, anche perché rigori gli sbatti tutti dentro, diciamo su azione magari qualcosa di più bisognerebbe fare, però, però quel tiro lì dopo dieci minuti lo devi sbattere sul secondo palo, cioè da quella distanza lì la piazzi sul secondo palo, apri il piedone, la metti sul secondo palo ed è gol, cioè sei vicinissimo e la sbatti sul secondo, cazzo tiri sul primo, sul primo c'è molto meno spazio, c'è il potere che copre, infatti ha beccato il portiere palo, vabbè avremmo avuto che sfiga, ma se tiravi sul secondo non la parava neanche se tiravi i due loro, quindi vabbè ti do sei perché Varte è ancora l'ennesimo gol, anche se su rigore, però sei un cecchino, però quell'errore lì non va bene, quindi scherzi a parte, mica tanto, però cosa vediamo? Possiamo dire che allora in questa partita si salva solamente secondo me Bernabè, Benec e diciamo Koulibaly per l'assist che ha fatto a Ciolac che gli ha consentito di fare il 3 a 2, però poco più, Ciccizzola fa una papperata e poi ne fa invece una buona, fa una grande parata, su po' Giampalo, però insomma sottotono da Mati, quindi un passo indietro alla grande, Man sembrava quello dell'anno scorso, Mihail, vabbè non ne parliamo, non so neanche perché entra, cioè non lo farei neanche entrare a quel punto lì, perché se deve entrare e fare incazzare tutti, compreso l'allenatore, e fare anche quello incazzato, dire io sono buono, non accetto critiche, meglio che stia in panchine, boh, Ernani, Ernani è lento, lento, non riesce mica a reggere il Venezia, assolutamente, Koulibaly è un po' sottotono, si salva perché si prodiga sempre, fa un assist per Ciolac del 3 a 2, però insomma non ha i suoi livelli soliti, diciamo che tutta la squadra non è apparsa a grandi livelli, cosa possiamo aggiungere? Allora, considerazione, se centrocampo e attacco non girano, la difesa soffre. Io cosa vi avevo detto a inizio? Vi avevo detto che al Parma la mancanza dell'acquisto del centrale di difensivo, forte, e soprattutto anche la mancanza dell'acquisto del centrocampista, la punta ormai lo sappiamo, cioè se ci arrivava una punta forte, Ciolac sinceramente non è quella punta che ci aspettavamo, però meglio di niente, il centrocampista mancante, ora ce lo sentiamo, perché appena non c'è Esteves andiamo in difficoltà, Camarà purtroppo è un'altra assenza importante, stavolta non c'era neanche Partipi, abbiamo dovuto vedere ancora Mijaila, insomma un po' di sfighe sta partita, addirittura l'abbiamo persa per un solo gol, ne abbiamo fatti due, ne abbiamo presi tre, tre gol presi, ne abbiamo presi quattro in tutte le partite fino adesso, e ne abbiamo presi tre in una, in un tempo, secondo tempo, quindi questo vi spiega che se la difesa va in sofferenza purtroppo può prendere sempre gol, perché innanzitutto a te, a te ti devo fare, stai in piedi va, ti devo fare ancora i soliti complimenti, perché io te lo dico, questo signore qua, che adesso ti faccio vedere, guarda eh, guarda bene, quel signore qua, no, lo so che tu quando vedi questo, no, è come se vedi Baresi, ok, ma non è Baresi, ma non è neanche, ma non lo so, ma un difensore decente, ecco, questo qui non lo è, ok, allora questo qua vale un quinto di cercati, ma lo vuoi capire o non lo vuoi capire, questa partita se te dovevi schierare i cercati, questo qua finalmente metterlo in panchina, no, e te, questo qua ha fatto, dunque su tre gol, due, lo sai che sono responsabilità sua principalmente, poi ok, la squadra ha delle colpe, perché sicuramente non ha fatto una prestazione sottotono, con un pressing ridicolo, e sembrava che erano a San Donnino, no, alle giostre, però lui fa le cavolate sempre, non è mai in posizione, ma ti rendi conto o non ti rendi conto che se dovevi schierare i cercati, ma boh, io non lo so, boh, questo qua vi sembra Baresi? Cioè, vi sembra Maldini questo qua? Ma perché se, ditemelo, se per voi questo qua è come Maldini, Cannavaro e Baresi, io alzo bandiera bianca e dico, boh, vabbè, avete ragione voi, avete ragione Pecchia, ma dai, per piacere, su, per piacere, cioè quello lì, cioè, non ci siamo, cioè doveva giocare a circati, doveva giocare a circati, perché non ha giocato, boh, chi lo so, e niente, quindi Osorio è improponibile, cioè ci ha fatto beccare due dei tre gol, è ampiamente colpa sua, se andate a vedere, e poi c'era il povero Akulibaly che cerca di chiudere per aiutarlo, però alla fine fa le vaccate, mi haila, perde dei palloni sanguinosi, poi becchiamo i contropiedi, becchiamo i gol, con Osorio ovviamente fuori posizione, comunque, cioè, ci spingono tutti in avanti, ma i difensori devono capire che devono stare anche un po' più coperti, non possono mica andare a centrocampo a giocare, cioè, vabbè, comunque, quindi, altra cosa, Bernabè, Bernabè, cioè, troppo retrato, cioè, troppo retrato, dai, non può mica giocare, lo volevi scambiare a momenti con Osorio e del Prato e compagnia bella, cioè, Bernabè deve giocare più avanti, non può mica sta lì a fraseggiare con la difesa, e poi parliamo dei palloni assurdi con Cicci Zola, che è la da centrale, con l'uomo alle spalle, rischiamo sempre di perdere dei palloni, beccare dei gol da Piti, dai, su, per piacere, quindi, lì non ci siamo proprio, e poi, Ansaldi, doveva giocare Ansaldi, dai là, cioè, fai partire Ansaldi, è che, di Chiara ti sembra in forma, cioè, non è che ha fatto proprio schifo, però, però, voglio dire, Ansaldi ti garantisce, almeno, gli fai giocare un primo tempo, 60 minuti, poi, quando è scioppato, fai entrare Ansaldi, però, dico, c'hai Ansaldi, Zagaridis, e, di Chiara, però, alla fine, fino ad adesso, di Chiara, non è che ha fatto vedere che è arrivato il fenomeno, quindi, fai giocare, ti dà le migliori garanzie, che, in questo momento, è Ansaldi e Zagaridis stesso, che l'ha fatto molto bene, ma anche come pressing, perché, qua, bisogna considerare, bisogna correre, in serie B c'è da correre, ok, non basta la tecnica, ok, e quindi, se uno non ce la fa a fare l'attacco e la difesa, devono giocare agli altri, prima, qui, quando è in forma, magari, gioca anche lui, bisogna dimostrare, SOM, sottotono, ma sottotono in tanti, ripeto, però, non so perché, però è così, torno al discorso del mercato, mercato che, adesso, caro mio Kraus, siamo assesi dal pedistallo, no, perché eravamo sulla luna, no, inarrivabili, parmi incredibili dei record, adesso siamo tornati sulla Terra, no, e vediamo anche, a fronte di infortuni, di quello che è, vediamo le carenze, carenze di questa squadra, principalmente, la mancanza dell'acquisto del difensore centrale buono, e quindi ci ritroviamo con questo qua, ok, che è considerato come Maldini e Baresi, dall'allenatore, purtroppo, e la mancanza dell'acquisto del centrocampista, cioè, toglie Steves, adesso non c'è neanche Camara, eccetera, eccetera, siamo con della gente, tipo Ornani, che non si muove, quindi Bernabè, purtroppo, non può anche lui, non lo fanno avanzare, lo fanno stare lì indietro, insomma, alla fine, chi ci va a dare manforte ai poveri Bonniciolla, che là davanti, è Venec, cioè, o fa tutto da soli, ma non si può far così, quindi, basta, non so cos'altro dire, direi che è sufficiente, come vedete, non ho detto i vari minutaggi, gol, mica gol, perché cinque gol, vorrebbe dire, praticamente, non commentare la partita, anzi, fra l'altro, vi anticipo che credo che il commento d'ora in poi sarà quasi sempre il commento, perché tanto, diciamo, che video lunghi, troppo lunghi, non piacciono a nessuno, ho visto, e quindi, diciamo, dai 6, 7, 8 minuti in avanti, poi io alla fine sforo sempre, vanno benissimo, senza dire tanti minutaggi, specialmente con così tanti gol, che praticamente non ci si riesce. Niente, ragazzi, speriamo, adesso andremo a giocare in il Como, è lì chiaro che se vuoi restare in vetta devi vincere assolutamente, questa squadra per arrivare in Serie A, allora, può farcela anche arrivare nei primi e secondi posto, però il problema è che secondo me il Palermo ha qualcosa in più, quindi il primo posto, secondo me, in questo momento come squadra, come tutto, un attacco come Mancuso e Brunori non ce l'ha nessuno, quindi siccome non ce l'abbiamo in attacco a quel livello, non abbiamo la difesa, perché se fai giocare, cioè, io prendo atto che se fai giocare i circati, però anche bene, nel senso del Prato non lo devi mettere a fare il centrale, ok? Però ci può anche stare, però con un po' Giampallo, cioè, nel senso, bisogna avere cognizione, cioè, se c'è della gente che è alta un milione di metri, non devi far giocare del Prato, il centrale. Cercati è diverso, perché Cercati è bassino, tra virgolette, eh, tra virgolette, però stacca bene, ok? Non è come del Prato, non ha lo stesso stacco di Cercati, secondo me, ok? In ogni caso, non devi far giocare questo qua, perché questo qua, stacco o mica stacco, quello, prima di tutto, cioè, praticamente non è mai in posizione. Ci fa una cappella, in cinque partite fa almeno quattro cappelle, cioè, quattro su cinque partite, becchi delle cappelle e rischi di beccare dei gol o li vecchi. Quindi, diciamo, non si può prendere tre gol, se si vuole in Serie A. Questa squadra ci può arrivare, anche con i play-off in Serie A, sicuramente, perché i play-off sicuramente ci va, però, secondo me, potremmo arrivarci col secondo posto. Il primo, al momento, la vedo dura, perché la mancanza degli acquisti che dicevamo sopra, si sente. Si sente quando non sei fortunato ad avere la squadra che fa un bel atteggiamento, con Estevez presente, eccetera, eccetera. Magari Rosorio mancante sarebbe l'ideale, a quel punto lì, ma se c'è una squadra compatta, con il grande pressing, eccetera, l'attacco vediamo che segna sempre, comunque l'attacco riesce sempre ad andare in buca, ok? Però il fatto che non c'hai un centrocampista di riserva buono, che sostituisce Estevez, il fatto che non hai il difensore centrale acquistato, fa sì che noi non siamo quelli che sono là in cima e, boh, ciao, le vinciamo tutte, ok? Quindi, prendiamo atto di quello che siamo, prendiamo atto che è mancato l'atteggiamento, perché se c'era l'atteggiamento noi possiamo dar fastidio a tutti, ma soprattutto non facciamo arrivare, o ne facciamo arrivare poche, di palle in difesa, perché siccome la difesa fa cagare, se la squadra riesce a fare un pressing feroce per cui te nella mia area non ci arrivi, là davanti combiniamo sempre qualcosa di buono, ma se invece siamo lì in vacanza a San Donnino, alle giostre, o in spiaggia, la Venezia che ci aveva voglia si vedeva, arrivi in area e in area dopo soffriamo, specialmente se non abbiamo un difensore centrale decente, come in questa partita è stato. E niente, ragazzi vi saluto, sono stato fin troppo anche lungo, ma la partita meritava, un approfondimento, e ci vediamo alla prossima occasione, dopo Parma-Como, che speriamo che sia un ritorno al Parma che abbiamo visto fino adesso. Come non c'era da esaltarsi prima e star sulla luna, perché le mancanze prima o poi si fanno sentire, e infatti i nodi sono arrivati al pettine, non ci sarà neanche da deprimersi per una partita che poi alla fine abbiamo perso per un solo gol, quindi se il fenomeno qua stava un po' più attento, magari non ne prendevamo tre, e quindi eravamo a parlare di qualcos'altro, perché un pareggio, come vi dicevo già da prima, sarebbe stato già un bel risultato. Vi saluto, alla prossima occasione, iscrivetevi al canale, abbonatevi e la magia sia con voi. Ciao!